Ciao ragazzi, benvenuti all'aggiornamento delle 19 Allora, ieri in realtà l'ho fatto l'aggiornamento però mi sono dimenticato di caricarlo Quindi a questo punto penso che ne caricherò due insieme stasera insomma Carico anche quello che ho fatto ieri Comunque oggi siamo qui in giardino e abbiamo appena addobbato la parte esterna di casa insomma E abbiamo messo queste lucine qua sull'olivo, vedete è la prima volta che le mettiamo intorno al tronco così Vediamo come vengono E stasera appunto dobbiamo vedere poi l'effetto che faranno E poi abbiamo messo le strisce invece più, cioè con le luci più grandi qua vedete lungo il pino Cioè cipresso insomma e lì abbiamo messo anche un'altra striscia di luci sul poggiolo insomma lì Ecco e stasera poi magari se riesco alla fine di questo video vi lascio anche l'effetto serale Se riesco a registrare un video insomma di come viene Se no ve lo farò vedere domani ecco nell'aggiornamento di domani Va bene dai ragazzi Io vi saluto buona serata a tutti Ah e sì come vi dicevo Se volete trovate anche l'aggiornamento che ho registrato ieri ma che ho caricato stasera Ma perché appunto mi sono dimenticato di caricarlo Buona serata Ecco il risultato finale E' il terrazzo